Situata nel parco agricolo del Montenetto, a 5 minuti da Brescia, l'azienda agricola tenuta la vigna da 4 generazioni persegue l'obiettivo della qualità nei suoi vini a denominazione di origine controllata di Capriano del Colle. Nella tipologia bianco, rosso, rosso riserva e marzemino, da provare anche il Blanc de Blanc, Anna Botti metodo classico e la morbida grappa di marzemino. Per maggiori informazioni potete contattarci allo 030 97 48 061 o visitare il nostro sito www.tenutalavigna.it